Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni Il papato fa ufficialmente parte della conferenza COP27. Il papato è salito al potere della Convenzione Climatica e dell'Accordo di Parigi e poi ci sarà la conversione ecologica in base al bene comune per l'Accordo di Parigi sul clima. Cosa è il bene comune? Rinuncia ai tuoi diritti, alla tua libertà di coscienza per la comunità. Legge di adorazione domenicale. Loro promuovono la conversione ecologica. 7 novembre 2022. Titolo I leader religiosi si riuniscono nel Sinai per ricevere i Dieci Comandamenti della Giustizia Climatica. Domenica 13 novembre. Simili riunioni di culto si terranno in tutto il mondo. In India, Himalaya, New York, Ecuador, Germania, Vienna, anche in Australia. Questo è un movimento globale. E c'è anche l'ascesa dell'adorazione del sole. Siamo chiari. Per il nostro peccato delle emissioni, dieci più uno comandamenti sul clima. E' stato recentemente lanciato un libro che chiede la legge per ecocidio, per perseguitare, cercare, imprigionare e successivamente uccidere i trasgressori delle loro leggi sul cambiamento climatico. 7 novembre 2022. Cito Nuovo libro Voci di fede per la legge sull'ecocidio. Cito E' stato scritto in un tempo di crisi ecologica. Il libro è stato lanciato il 9 novembre dalla Conferenza Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP27. Non solo le ditte, ma anche gli individui saranno perseguiti. I leader cattolici promuovono la pena di morte in base al bene comune. E' anche la domenica per la lotta al cambiamento climatico in base al bene comune. I puntini sono collegati. Titolo Cosa promuove il Signor Anticristo? Il crimine internazionale dell'ecocidio. 12 settembre 2022. Il Consiglio Mondiale delle Chiese supporta la legge dell'ecocidio. Gli avvocati internazionali chiedono la legge sull'ecocidio per criminalizzare la distruzione ambientale. Il Papa ha detto che la legge sull'ecocidio dovrebbe essere posta come quinto reato alla Corte Penale Internazionale. Cito Il libro si chiama Voci di Fede per la legge sull'ecocidio. Stanno promuovendo le parole di Papa Francesco, il quale sostiene l'ecocidio. Hanno detto che attraverso l'influenza del Papa, i capi di Stato seguiranno l'esempio. La Chiesa sta influenzando lo Stato. Le tradizioni di fede hanno la speranza che possiamo accettare questo fondamentale atto legislativo in tempo. Uniamoci tutti nell'azione e nel sostegno alla legge sull'ecocidio. Cito il Consiglio Mondiale delle Chiese. Se noi raggiungiamo altre tradizioni religiose per parlare in favore di una legge sull'ecocidio, i governi di tutto il mondo dovranno ascoltare. La Chiesa influenza lo Stato. Ci riuniamo per presentare le fedi per la legge sull'ecocidio, un'iniziativa interreligiosa per riunire voci religiose, leader religiosi e comunità, a sostegno del nuovo crimine internazionale dell'ecocidio. Papa Francesco è stato molto chiaro. Già nel 2019 citava l'ecocidio come questione urgente da promuovere. E attraverso la sua enciclica Laudato Si ha anche promosso una spiritualità ecologica per aiutare i cristiani a vedere il bisogno, aiutandoli ad impegnarsi per questo problema in tutto il mondo. persone che si uniscono da oltre 50 paesi e molte religioni diverse per esprimere il sostegno per il crimine dell'ecocidio e saperne di più su come questo sia un passo molto pratico e potente verso una società umana in armonia con la natura. In Matteo 24 i segni che dovrebbero procedere la seconda venuta di Cristo sono Verso 7 Guerre, poi carestia, pestilenze, terremoti e calamità in vari luoghi. Verso 8 Questo è solo l'inizio dei dolori. Versetto 9 Allora vi consegneranno per essere afflitti e per uccidervi e sarete odiati da tutte le nazioni per amore del mio nome, di Gesù Cristo. 10 novembre 2022 Titolo John Kerry svuota il sacco al COP29 Sentite Circa un anno fa, quasi un anno fa alla COP26 il Presidente Biden ha lanciato la First Movers Coalition perché sapevamo che per raggiungere l'obiettivo di mantenere in vita gli 1.5 gradi per poter coinvolgere il settore privato dovevamo accelerare quasi ogni aspetto di ciò che stiamo facendo. L'idea per il lancio della First Movers Coalition è semplice Dovevamo creare segnali di domanda nel mercato che non esistevano e l'abbiamo modellato sull'esperienza dei vaccini COVID-19 Il governo ha pagato per fare le cose Così gli investitori sapevano che avrebbero potuto ottenere un ritorno su quel capitale o almeno coprire le proprie spese nel caso dei vaccini in cui la vita umana era a rischio Ora, la vita umana è a rischio nella sfida della crisi climatica globale Loro affronteranno la crisi climatica proprio come per la pandemia COVID-19 e il lancio del vaccino Il COVID-19 è stata una prova generale per la crisi climatica la crisi della legge domenicale Loro hanno creato la pestilenza Poi hanno costretto la coscienza della gente per farsi vaccinare Hanno tolto le libertà a chi si rifiutava di seguire i loro ordini I mercanti divennero il braccio del governo Le imprese che erano collegate al governo divennero il braccio destro del governo Ciò si collega a due versetti Apocalisse, capitolo 18, verso 2 e 3 Babilonia che è fornica con i mercanti E Apocalisse, capitolo 13, dal verso 15 al 17 Saremo esclusi dalla compravendita sempre attraverso i mercanti tranne chi riceve il marchio della bestia L'ispirazione dice che inventeranno delle calamità per avere la loro crisi della legge domenicale Lo conferma Il Gran Conflitto, pagina 589, edizione americana E pagina 579 I segni ci sono Proprio coloro che dicono di prendersi cura delle persone e della natura portano le pandemie e le calamità E poi arriva la legge per l'adorazione domenicale Loro vogliono creare artificialmente una domanda che non esiste Per le auto elettriche Per la carne finta coltivata in laboratorio E sostituire le proteine animali con grilli e altri insetti E poi la legge di adorazione domenicale In Marco capitolo 13, verso 33 Gesù disse State attenti, vegliate e pregate Verso 35 Vegliate dunque, perché non sapete quando il padrone di casa verrà Se di sera, a mezzanotte, al cantar del gallo o al mattino Perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati Ora, ciò che dico a voi, lo dico a tutti Vegliate Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni